No, tu non vuoi essere d'accordo con me, non basta essere proletari, l'intellettuale è più avanti, è più su, è più giù, egli è irraduncibile, egli è più oltre! Oh, a più oltre, ma che sei venuto a Roma per litigare? Guai a chi... oi, la valigia! Eh, calli! Guai a chi mi dà ragione, capito? Ma chi se la dà? Guai ai matti, dico io! Roma, 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 non vorrei che l'area di Roma... Aspetta, che ne la fai?